buongiorno partiamo in mezzo agli asini dove stanno i maialini abbiamo anche i maialini e ti meraviglio Nicola ed ecco Mario andiamo a vedere il resto del gruppo Arione favola nota lì c'è Roberto c'è Rolando Giorgio Claudio che finalmente torna fra noi la nostra friulana che ovviamente per essere ripresa di faccia sono troppo belli questi animali come si fa ad uccidere i maialini? beh qui i tombaroli un reperto l'hanno lasciato in maniera da poter ammirare dal basso il ponte romano su cui passa la via Merina adesso si tratta di capire se c'è il guado eccoci qui al ponte romano sul fosso maggiore il ponte non c'è più ci sono i due filoni laterali e qui hanno messo un ponticello per superare il fiume perché si tratta realmente di un fiume considerando che qui non piove da due mesi vediamo se il friulano chi si tratta di capire professionalism si tratta di capire siccome è un friulano di capire ci sono sempre dei tipi sta di capire per me è bello qui e per me è che la prima parte è di sé ma è una partita la prima parte guardate con che cura risposta questo dovrebbe essere tomba c'è chi ha portato la torcia fate passare a roberto che deve fare la luce sono rinati, sono rinati eccoci ma che rinati, risorti i romani che vanno alla conquista di Faleri Veteres sì, bravo no no perché lì si diventavano e cercavano di essere di nuovo indipendenti allora alla terza volta si sono noti e scatarono di superazione e li hanno spediti il campo di alzacolica ma perché non si può entrare? voi avete letto il cartello no? il cartello l'avete letto? alla fine ultima righe ci sta spinta verde brutale dalle mura non si può entrare? si può entrare? non ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La penna dell'alpino. Saluti. Un ottimo brazzo. Vini eccellenti, dolci, genziana, di vari tipi. Che ti devo dire? E fermiamoci qui. Che ci dici, Mario? Declamaci qualcosa. L'Orlando Furioso, i promessi sposi. Ottima giornata. Ottima giornata. Anche discussioni sulle libere scelte di ciascuno di noi. Anche se tua moglie sapesse fare quello... Saxa tuo canto. Come dice la canzone. Se è così difficile morire. Fece tutto un muro sofficiosa novos. Ma gli mancheresti tu con la passione. sera... Rolando, dici la tua, dici la tua. Quando c'è da bere bevo... Arione fa una nota lì. Claudio, su, oltre il cannone... Un commento a caldo. A caldo? A caldo. Non mi viene in mente... Eh lo so, oggi... Oggi è più giovane di un giorno di Maria Rosa. Ricordiamocelo sempre. Maria Rosa non conta. Maria Rosa è un sacco. Oltretutto, tu di che in maniera estremamente positiva la persona mi ha dormi anche in mezzo. Capita che la vita e la moglie deve vivere in un'altra cosa. Oh mamma, che discussioni. Il fuoricampo dice io meno male che non ci sto. Grazie a tutti. Grazie. Qui si può andare giù alla cascata, molendo, se ci vuoi andare, se no ne fai a meno. Grazie. Andiamo indietro di qualche secolo. Andiamo indietro di qualche secolo. Ecco Luigi, ecco qui Luigi, ti è piaciuta? Questi piccoli scherzi si possono mettere sulla rivista. Stavolta ero preso il controviede, poi ragazzi non ho potuto prepararmi per niente. Professore, sono impreparato. Grazie. 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 Grazie.